perfetto allora ci troviamo qui oggi per provare dico gioco multilayer simpaticissimo e halloween buon halloween a chi guarderà chi guarderà play game mai giocato chissà cosa succederà io non sento nessuna musica da gioco quindi non mi interessa potrebbe non esserci musica sì perché io ho premuto io sono tu sei a voi personalizzare c'è se robitus è bello qualcosa di halloween ok sono pronto che mazzavano pensavo perché l'ho convinto avessi fatto la tabba va bene andiamo cosa facciamo ma un uro non ne ho proprio idea perfetto solo che ecco per facile tutorial ovviamente se è bello poi giocheremo brigazzi allora io mi muovo quindi è storia in inglese vabbè quindi dobbiamo fare una valutazione obbligatoria della funzionalità ok salta per jumpare oggi tu finché bevi il te non giocare molto bene dobbiamo rompere le cose possiamo rompere ok raggiungiamo la ecco dai 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 ma riesci a vedere in una foto da qua non lo vedo mai no qua vedo che non ho scritto nessuno sono timidi timidi o assenti sono sentiti ma comunque se lo vedo anch'io che non vedo niente allora dobbiamo raggiungere la parte ma non c'è sarà fare il doppio dopo poi 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 double jumpare ok good io ho più riuscito a me abbiamo segno di gran pensiero cognitivo next test è difficile ah il cervello nella puoi capire come raggiungere la fine del corridoio rompendo queste cose è ovvio scusa come dovremmo fare non rompiamo tutto non costa niente che si fa con gli altri comandi hai provato di essere capace di fare cose in giro eventualmente la destinazione che riguarda fine ma scienze quindi movimenti ci abilità di movimento preciso lancia la palla nel canestro dove la palla nel canestro ecco io ho preso questo va bene lo stesso come la lancio a tenendo premuto poi regolare se avessi fatto prima di questo avremmo fallito il gioco c'è un bravo davanti a me si è bloccato non va lancio che devi lanciare vieni qui fanculo andiamo andiamo che porti un pezzo potrebbe servirci non si sa mai ci saranno altri da resta intasare o di colpisce di migliore piccino mi trasferito possiamo prendere i pezzi del computer non lo fa prendere ho preso te no sarà lì perché devo sparare mostri a zero colpi andava aperto che preso me di sto sparando come si mette molto a posto che avrebbe molto come per me a posto non possiamo aspettare che si scarica no ha fatto le metti vicino ricarica da solo ok è automaticissimo ok qua ci possiamo tritare però attivare devi dare cosa vieni qua vieni qua vieni qua lo scoprirai tu perché è che non stai guardando ma non muori che peccato c'è sempre gustavo la pioggia di sangue in questo caso odio e comunque bisogna farlo stunghi e lo butto a lui funziona guarda ci posso camminare tu lo conosci gangbeats è troppo bello è bellissimo la tu prendi amici le butti nei tritadutto vedete da carne hai buttato me vai colpisci e fa dentro colpisci vuoi anche buttalo giù hai buttamolo giù la gamma fa dobbiamo impedire che interferiscano con cose con il recuperamento corporativo hai preso me che ho preso del lagno bellissimo ma io posso morire avanti fatto fatto ok questo grafica un po playstation 2 che dici grafica tipo percook ma hai vestito percook che dici un'altra casa percook ha fatto scuola bello allora dobbiamo ah dobbiamo let's dress dobbiamo trovare il cactigen che può essere trovato dalla luce rosa è abbastanza valore da ignorare le leggi sull'inquinamento intergalattico ipoteticamente io ovviamente il cactigen può essere trovato sul suo pianeta il nostro semina venire dal cacti che cresce lì quindi colpiscilo e raccoglilo di cacti ne ho raccolti 5 una volta raccolto dobbiamo buttarlo lì ma si ma vabbè 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 continuiamo a raccogliere adesso devo solamente firmare alcune delle responsabilità poi finalmente raggiungere un pianeta ostile agli alieni ostile ai robot bene siamo pronti per affrontare io che io sono sangue tu sei go ma no forse ti incontro a quella storia giusto allora ah beh montare sorridere come fare ma vogliamo che altro altri cacti un po storti raccogliamoli allora per tutti i scrap nessun nemico non ho letto allora benvenuto abituato prima estaticamente ultima della missione sanzi oggi qua abbiamo pezzi della torre e monta 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 dove ti piace il pane non sappiamo dove arriveranno i nemici ora lo sappiamo ora lo sappiamo davanti al loro bravo si appena arriva sono nei guai colpisci colpisci no no io raccoglio il coso qua raccogli raccogli e difendi non c'è un modo per scattare la torretta si ricarica in un senso infinite è facilissimo la torretta ce la fa benissimo ci ricorda il tasto per scattare però mi sento un po lento provare dai tasti non credo ci sia scatto più scatto altro che santo ai mostri e io ho preso questo io ho lanciato ah ma non li uccido Oti non ha più colpi perché non si ricarica la torretta Oti girala la torretta girala la torretta scusa non posso lanciare lì dentro che stai facendo avanti avanti eh scusa quindi che fanno lo stanno buttando dentro per farsi uccidere di proposito no ma forse non dobbiamo farlo ma non dobbiamo buttarli allora stiamo sbagliando ma si rompono se si butta stiamo sbagliando allora ma io ho capito che dovevamo come lo finiamo se non posso buttarlo giù eh cerca di capire guarda perché vedi non lo fiatisco così cerca di capire se c'è qualche punto dove lo puoi buttare e ormai solo la torretta li stavo aprendo e buttare dietro la torretta scusa mh ok io non avevo capito quindi noi non li possiamo effettire direttamente no abbiamo uno sbuttato o spingerli o allora quindi l'obiettivo del gioco è questa lì quindi devi difendere il cacchivocchio mentre raccogli questi altri cacchivocchi quindi più ti raccogli e più ti escono ti escono cosa torrette non ho niente secondo me le torrette ne stanno per arrivare altri ah ma non riesco a salire così così lo carichiamo capito come si sale qua sopra? ah l'ho fatto il giro ora ho capito dipende un po' che io faccio il giro qua poi colpi da sta cosa guarda la riga di me cosa succede a dire? 3250 e poi che succede? che ho avuto in livello. ahhh figo munizioni munizioni. non è nulla ora c'era cinque si rompe con altri cinque si sarebbero è capito vabbè permettono non c'è ancora nessuno non fa niente ho preso questo appello bellissimo il minibot vediamo vediamo scattiglia poi ti fa vedere i percorsi da dove arrivano i mostri li dobbiamo presidiare ma con una torretta solo come si fa 42 torrette proprio modo di piazzarla ai due ingressi ok ok vabbè così ce la fa così così dai tranquillissimo mettiamo le munizioni vicine così ma ci sono è così necessariamente teniamo le vicine ok allora raccogliamo un po di cose dove sono i cantus come si arriva lì infatti non è facilissimo guarda dove sono i cantus ops beh tu resta più uno dei secondi deve restare vicino per i confronti e l'altro va a raccogliere e poi di poi invece per fare presto rilancia tipo così e poi l'altro magari quando lascia un secondo ok come vado a girare dove vado a trombare la sua ma come ci vado ah pure la scatola di munizioni vediamo che si ricarica vediamo che non ci sono si qua ce ne sono 7 ma noi siamo dei minatori cos'è 3 e 4 ora arrivano il contorno esce ok altri un'altra ventina ah di qui in mezzo non ce ne sono qui in mezzo dobbiamo per forza prendere e buttarli qua dove si sono capito? ma mi sembra strano possibile che non ci sono modi per combatterli eh oh cazzo li devo ributtare indietro no di buttali qua in mezzo alle torrette questo verde lo so spingendo via prendo un po' di munizioni che si fanno comodo eh niente non ci sono più troppo nooo ok ce ne manca un'altra ventina io carico un po' di torrette un bel doppio salto ci vuole qui il problema è quando sono sui lati perché più sui lati non possiamo eh vabbè io basta panza ok tutto va la pena eh alla fine si fa si fa si fa tutto si fa ci sono giochi molto più complessi ok mettiamo pure questo ok ok fatto ottimo magari secondo me più erano più divertente è chiaro questo gioca fino a 4 sicuramente più divertente essere in più l'unica cosa però non ho capito però nel tutorial non abbiamo letto che diceva come si fa ah però quali possiamo buttare giù per esempio qua c'è il battle abbiamo trovato quando abbiamo buttato le rite ok che dobbiamo fare ah mettiamo i pit con i thumpers degli stanni degli stordisci capito gli stordisci non gli thumpers comunque dove mettiamo la torretta abbiamo solo una eh no no mettila così così che si vende sia sinistra da destra qua e qua no tipo così qua qua metterai qua vabbè qua vabbè qua vabbè così vai 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 spero vediamo dove sono le munizioni dove sono le munizioni ah sono un po' lontano giù puoi un attimo per piacere scusa puoi gestire un attimo quello che mi prendo le munizioni usa i thumpers usa i thumpers mi chiederai come si mi hanno buttato a me giù vabbè vabbè la torretta non c'è la munizioni certo che va bene quando io resta al disco tu a 1 1 prendi il buco di giù per piacere non so dove sono lo dici come se fosse semplice non so dove sono aiuto quanti sono hanno acceso di nuovo ma sono fortissimi dobbiamo dobbiamo prendere le munizioni prima eh si chi vuoi ho montato la torretta dove apprende subito le munizioni e poi dobbiamo capire come si sono quei thumpers come si usano i thumpers ma qual è il thumpers questi cosi questi dobbiamo capire come si usano ah sono delle trappole li chiamiamo thumpers come si usano we found up l'abbiamo trovato e abbiamo comprato i diritti sul pianeta va bene ma come abbiamo una torretta e due thumpers e ma come si usano non lo sappiamo non lo sappiamo io da prendere le munizioni subito ok io monto la torretta lì dove era prima ok torretta c'è forse il thumpers è questo bottone non ho capito il thumpers dov'è cioè come si usa devo caricarlo devo colpirlo si guardati lo colpisci e lo carichi per 12 voglio usarlo? quindi fa 12 volte la botta a 10 volte la botta ok mentre questi pulizioni stanno finendo oh 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 sento carico questo coso però ti se non se non ah li hanno ucciso ma sono fortissimi questi verdi si questi verdi si questi verdi si è l'ultimo momento c'è l'unico ma mi uccidono ma mi uccidono perdiamo se non eh perdiamo ma sono no comunque la torretta lì non va bene la torretta lì non va bene la torretta lì perché non spara niente fai retry fai restart level riproviamo riproviamo eh dobbiamo metterla o solo a sinistra no aspetta vai a prendere subito le munizioni in studio un attimo meglio harvest e raccoglie raccolta harvest eh posso lanciare le munizioni posso lanciare poi quale la trovo sguerrindo è semplicemente sì qui così quando questi da qua salvano e dopo però li sprava per poco tempo li sprava solo lì sotto ma noi dobbiamo fa questo fammi caricare questo cosa no quello è l'istobbicio dobbiamo buttare giù ma fra questo ma non riesco allora forse senti a ogni ondato dobbiamo spostare la mitragliatrice ma come si sposta? in un triangolo io non ci riesco una volta piazzata non si può spostare più ma non è altro che si può spostare per poco ecco vedi che non spara no è difficile questo è difficile questo livello dobbiamo spostare la mitraglietta solo che sembra come se non spari all'ingiù non capisco bene allora vai a piegare i colpi metterlo proprio sull'urlo metterlo proprio sull'urlo ho capito? poi mettila proprio qua su qua mettila qua lo metto qua aspetta no vai a ridurre vabbè vai a piegare i colpi piazza la piazza perchè non sale? perchè non sale? perchè io ho tanto personale allora carico questo e vabbè non l'ho caricato scemo ok sta sparando all'ingiù perfetto no qualcuno dobbiamo buttarlo giù però devo farmi raffinare prima accoglierò un po' di cose adesso non andiamo avanti sicuro sta tenendo il walk si 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 ok ora raccogliamo qualcos'altro oh colpi 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 oh ti vado a prendere altri colpi si possono fare un draglietto mi lancio più mi lancio più mettili non ti muoio mi lancio altri che cazzo mettili subito prendi le buttali giù ma perchè non lo spara più? perchè non lo spara più? perchè non lo spara più? perchè non è carica caricala ma c'è la funice devi mettere due colpi si si allora otti carica di botte qualcosa arriva qualcosa di botte ma non lo muoio sono forti prendo uno lo butto giù prendo allora cadiamo questo prendo le munizioni otti prova a raccogliere un po' di actus perchè se no non ne ho più ampio sto andando sto andando munizioni subito che stanno finendo non lo spostare oh ho sbagliato me lo buttate giù? bravo il deficiente e ho buttato giù pure i colpi nooo cavolo sto cercando i piastagot va bene va bene va bene chi dici cos'è? va bene va bene va bene va bene ok munizioni odi se puoi lanciane una se puoi pure lancio pure le cactus pure le cactus prendo un po' di cactus qui e le lancio sopra però abbiamo un po' di nemici qui qua li spingo giù li spingo giù aiuto di cazzo sono lì? allora munizioni va bene abbiamo sposto la torretta subito la carico metto un po' di cactus sono esploso di cactus dobbiamo buttare giù dobbiamo fare lì ma butto giù uno l'altro mi esplode in faccia sono molto aggressivi però ce la stiamo facendo eh si dove l'ho messo? vai sul cactus vai sul cactus vai sul cactus se ci vuole un po' di strategia qua però no 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 è semplicissimo mi sembra più credito il gioco guardi 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 ok ok munizioni ce ne sono metti 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 munizioni via questo che esplode prima che esplode nel macchinario dove c'è adesso? non puoi da possibile se riesci a caricare ok colpi 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 munizioni tu questo giù perfetto carico il macchinario oh oh spostiamo la torretta spostala 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 io prendo altre munizioni ma e prendo pure il cactus oh ti resta lì vicino ti resta lì vicino ti porto le munizioni tu restala vicino fai che devo buttaggi un po' di questi la torretta qua non li prendo più carica 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 eh sono morto cacchio sono velocissimi ce la possiamo fare ce la possiamo fare senti io prendo un po' di cactus ora e prova a caricare il il tubolone andava a fare un buro prova a caricare nessuna cosa? la torretta è piena non è un buon segno vuol dire che fino a me andava fatta niente no abbiamo scissuto niente noi abbiamo scissuto niente ok arrivano da questo sposto la torretta sposto la torretta prendo l'acto l'actus perchè se no non chiama più livello vai vai io resto un po' di guardia questo già conosce minecraft aiuto facciate va in giro i piccoli prendo altre munizioni che stanno finendo eh faccio un sacco che ciline si dovevi ah si è vero ricarica un po' il thunder porta altre munizioni qui faccio tutte le munizioni ricarico la torretta e la sposta è meglio di una carriata inisci da quella parte che sta andando lo capisco vado vado pure un attimo al cactus dai mi butto un po' giù con questa poi ne mancherà uno solo ho preso i 10 eh stanno la abbiamo vinto abbiamo vinto eh non ha più colpi ricarica cosa l'abbiamo fatta e va bene direi che abbiamo dato più o meno un'idea di che cosa sia D-Corp questo era il secondo livello è solo difficile non posso immaginare giocato da solo che inferno sarebbe stato non ce la fai no l'unico problema grosso è sto fatto che non ha la coppia online cioè per forza no per forza devi stare vicino sennò è un po' c'è un po' un casino così comunque va buo ok ragazzi buon Halloween ancora buon Halloween ancora e ci vediamo stasera per un altro appuntamento 19 e 30 vediamo se stasera sarà un po' più partecipata la live va bene allora ringraziamo ancora una volta che ci ha dato questa chiave è stato divertente di provare questo gioco sì niente male va bene penso che lo metto pure sul secondo canale questo questa cosa eh vabbè sì è piccolino va bene allora a più tardi ciao 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 ciao